Facendo un'opera foto, volevo ringraziarlo per la sua presenza qui a D'Aus, ringraziare tutti i colleghi che abbiamo organizzato questa giornata dedicata all'opera della cultura, la cui occuperemo non più di due ore perché poi noi stasera vi città allo spettacolo, piano italiane, che è anche allo stagio in Nord America. Molte grazie anche al Teatro Stabile che ci ha aiutato moltissimo in questa organizzazione.